...delle forze operative che compongono il Corpo Nazionale di Rigide del Fuoco e quindi in questo modo sono in grado di assicurare l'intervento operativo sulla specifica... ...che l'altra piccolissima scossa di una settimana, una decina di giorni fa che ha interessato anche se soltanto in via molto lieve, il Bagnoli, Montella e Lioni. Quindi diciamo che l'interesse del Prefetto è particolarmente accesa per questa esercitazione. La Prefettura si organizzerà in questo modo, di supporto ai vigili, anche noi ci allerteremo chiaramente su solicitazione, su segnalazione. Per quanto riguarda la scelta anche del teatro dell'esercitazione, il Trottaminar del Frigento, che sapete sono dei comuni più caratterizzati da una certa pericolosi nazistica, in particolare il Trottaminar che è stato il teatro di passato, di sei forti storici che hanno corso la storia, hanno raggiunto, addirittura superato il nuovo grado della scala mercata, per cui la scelta di prendere come riferimento il Trottaminar. Peraltro il Trottaminar nel novembre del 1732 fu proprio l'epicentro di quel forte terremoto che interessò tutta l'Italia e meridionale e che ebbe effetti importanti anche nella città di Evelino, tant'è vero che la città di Evelino ha conosciuto la più alta intensità macrosismica proprio in occasione di quel terremoto perché fu raggiunto il nuovo grado della scala mercata. Come diciamo...